Il concetto di provocazione è abbastanza semplice, deve provocare una reazione, una reazione che può essere scomposta o meno, anzi, tecnicamente più scomposta è la reazione, maggiore è il successo della provocazione. E se come provocazione scrivessimo un regolamento universitario e lo scrivessimo tutto al femminile e solo al femminile, lo ha fatto l'Università di Trento e vi spiego una serie di cose tra cui perché è un'ottima idea. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, siamo all'Università di Trento e l'Università di Trento deve creare il nuovo regolamento universitario. In mezzo a tutto questo è il grande discorso sull'inclusività, cioè il grande discorso sul non utilizzare il maschile sovraesteso. Maschile sovraesteso che le regole di italiano consentono, per la carità del cielo, nessuno sta dicendo che non è corretto da un punto di vista grande. drammaticale, è un po' più particolare da un punto di vista di inclusività. C'erano stati tanti altri, non solo a Trento, e tanti altri tentativi, tra cui l'utilizzare la schwa, eccetera. In questo caso si opta per un... per una cosa diversa. Se voi leggete online su Twitter iniziano a dirvi tutti Ah, da adesso tutti devono chiamarsi al femminile, devono chiamarsi professora, anche gli uomini, eccetera. Non è tutta gente che non ha capito un cazzo, come al solito, di quello che è successo, ma ci sta. Guardate l'orientamento politico di chi sta facendo i commenti e trovate perché non hanno capito un cazzo. L'idea di base è diversa. Nella scelta di che genere usare è stato usato solo il genere femminile. Una sorta di femminile sovraesteso, mettiamola così, mettendo in chiaro all'inizio del documento, non mi ricordo in quale dei primi punti, lo trovate comunque online, una frase che dice ogni volta che si usa il femminile ovviamente si intendono ambedue i generi. La stessa frase che viene detta normalmente quando fai un altro tipo di sovraestensione, cioè quando dici in questo documento ogni volta che ci si rivolge al maschile si intende ovviamente ambedue i sessi. Cosa è successo? Beh è successo, se guardate online, una forte polarizzazione che è perfetta per una provocazione. Da un lato quelli che oddio non si può più dire niente, oddio adesso finirà il mondo, l'universo, tutti quanti, adesso mi chiameranno al femminile, che sinceramente se volete chiamarmi professionista al femminile, una professionista va bene uguale, una imprenditrice va bene uguale, non cambia la sostanza della mia professione, e invece un sacco di persone che dicono nel leggerlo ci siamo sentite esclusi, cioè nel leggerlo abbiamo capito cosa vuol dire sentirsi esclusi o percepiti esclusi rispetto a il tema dell'inclusività. Non è la prima, cioè non ho più il cellulare dietro, no, mi pare che l'Ipsia abbia fatto la stessa cosa prima di Trento, quindi non è una novità strettamente parlando, ma non importa che sia novità o meno. L'importante qui è cosa è stato ottenuto come risultato. Patato, vuoi venire? Ecco, così abbiamo anche patato. Quello che è stato ottenuto come risultato è accendere una discussione, una discussione che ha portato a capire o non capire quanto l'utilizzo del linguaggio possa per alcuni essere una barriera nel sentirsi inclusi. Questo stravolge le regole dell'Italia... No, questa è una provocazione utilizzata all'interno di un regolamento, in una tantum, che non ha cambiato un granché della mia e della vostra vita. Ha fatto però un attimo riflettere, che forse è un'ottima cosa. La cosa che a me invece interessa un sacco è un'altra... Buongiorno, signor Patato. Ciao. La cosa che mi interessa di più è un'altra, ed è il fatto che, come ogni soluzione che viene proposta, nuova, eccetera, quello che succede è una forte polarizzazione. Cioè, trovate difficilmente qualcuno online che dice beh, in effetti mi ha fatto pensare, trovate quelli che danno del genio incredibile, qua è cambiato tutto e il mondo non sarà più lo stesso, o oddio, i bambini, chi pensa ai bambini, moriremo tutti, ah, se Dante vedesse questa cosa si rivolterebbe nella tomba. Probabilmente sono false ambedue le polarizzazioni, come al solito, ma ce le continueremo a portare a casa anche questa volta, non credete? Tutto qui. Vi ricordate di fare subscribe o di mettere un like, che a quanto pare YouTube è molto patito. Grazie mille per avermi ascoltato, trovate il gruppo WhatsApp e i contatti nella slide finale, e come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Nei che sto te parlando, patato! Ciao, 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 come stiamo, patato? Stiamo bene? Grazie mille per avermi ascoltato, ciao, 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 ciao.